Fin dove si può arrivare ad accontentare i pazienti senza danneggiare assolutamente nessuna struttura, è lecito andare incontro al paziente. Allora bisogna avere buon senso, saper rapportarsi, contatto ed equilibrio col paziente e cercare di guidarlo. Quando il paziente è decisamente ostionato, orientato per dei motivi propri, un suo vissuto particolare che noi non possiamo conoscere. Non è il caso, come fanno alcuni, secondo me, di dire vai dallo psichiatra o indirizzarlo dallo psichiatra perché non ho visto mai delle soluzioni del problema in questo modo. Ma cercare di entrare nel mondo del paziente per farlo ragionare, aprire gli occhi e scendere a una sorta di compromesso. L'estetica c'ha una soggettività ma anche un'obiettività. Non è solo soggettivo, come tante cose, anche il gusto. Non è solo, non si può dire, non piace questo e basta. Se io non so, non amo il vino assolutamente prestigioso e mi piace il vino che sta da aceto, vuol dire che non mi intendo di vino. C'è anche un'obiettività oltre la soggettività. E così anche nella chirurgia estetica, per cui oltre certi limiti si arriva veramente ad entrare in contrasto col paziente. E il paziente certe volte si perde. Io qualche volta arrivo a questi limiti per cui perdo il paziente perché non accetto di arrivare a dei compromessi oltre un certo limite. Però quando si può, facendo ragionare il paziente, con molta pazienza si riesce ad arrivare a un punto comune.